I cinque negozi oggi ancora aperti del mercato del Carmine dovranno sloggiare entro il 3 luglio. Il comune ha ordinato di liberare i fondi, sottolineando che i termini sono perentori perché il rischio è quello di perdere i finanziamenti PNRR da oltre 4 milioni di euro per restaurare il mercato. La richiesta è stata accompagnata dall'offerta eccezionale di una licenza per ogni operatore, tuttavia solo uno dei cinque esercenti ancora presenti sembra voler prendere in considerazione la proposta. Si parla attualmente di concessionari su un bene demaniale e noi abbiamo dato la possibilità di trasformare tale concessione in licenze, in deroga alla cosiddetta delibera della moratoria e quindi su quello che cosa comporta anche da un punto di vista economico. È l'unico mezzo che dà la possibilità alle attività di poter trasferirsi all'esterno in questa fase di attesa dell'inizio e la conclusione dei lavori. I due ortofrutta, il macellaio, la cioccolateria e il bar, ricorda l'amministrazione, hanno concessioni scadute da 11 anni e in tutto questo tempo hanno riconosciuto al comune un affitto agevolato non paragonabile ai prezzi di mercato. La ricerca di soluzioni che garantiscano la continuità delle attività commerciali presenti è un impegno contenuto nel contratto con la ditta concessionaria del mercato, la 42-23 SRL, che fa sapere di essere pronta a presentare a stretto giro delle proposte di continuità per ogni realtà presente. La riqualificazione del Carmine rappresenta un'occasione irripetibile per la città. Prenderemo il finanziamento successivo del 10% relativo all'aumento dei costi di materiali. La scadenza successiva, che è quella improrogabile ad oggi, è quella della firma del contratto per l'inizio dei lavori, con la ditta che si è giudicata all'appalto che è il 31 luglio 2023. Il cantiere sarà affidato a una rete di imprese del territorio e i lavori dovranno terminare tassativamente entro il 2026.